sì è grande quanto la mia faccia questa brioche una montagna pari a quella che scalerò oggi per raggiungere uno dei luoghi più suggestivi che abbia mai visto dal bombolone alla bombola di ossigeno quella che avrei dovuto portarmi dietro oggi per fare trekking su questa montagna che affaccia sul mare ma la fatica sarà presto ripagata il garcano è una terra ricca di spiritualità perché viene attraversata dalla via francigena che sin dall'antichità porta i pellegrini dalle città europee a roma fino a gerusalemme attraverso i porti della puglia sto facendo attenzione perché il cammino è piuttosto scosceso e dunque di una terra ricca di abazie e ne sto raggiungendo una medievale l'abazia della trinità che si trova in cima al monte sacro che sto salendo in questo momento il fiatone dovuto a quello è il monte più alto del gargano orientale infatti la sua cima si trova a 870 metri sul livello del mare camminare per il parco nazionale del gargano come sto facendo in questo momento con un po di fatica significa attraversare un vero e proprio giardino botanico perché si contano circa 2.200 specie vegetali diverse su questa montagna sembra che siano piovuti meteoriti ma l'elemento più alieno risiede sulla vetta nella fitta vegetazione ed eccola l'abazia della trinità su monte sacro sul gargano il culto dell'arcangelo michele cominciò già dal quinto secolo e proprio qui nel luogo dell'abazia della trinità apparve per la prima volta l'arcangelo michele al vescovo di siponto nel 490 dopo cristo e qui gli indicò la grotta a monte sant'angelo dove erigero luogo di culto della cristianità e i monaci benedettini arrivarono attorno all'anno 1000 e già attorno al 1100 venne eretta questa abazia e cadde in disuso attorno al 1400 l'abazia è in stile romanico come si vede dai volumi massicci dalla volta crociera dal portale e dai dettagli decorativi su uno degli absidi si vedono ancora dei resti di pittura mentre il soffitto crollato ha completamente investito la navata sulla quale sono addirittura cresciute delle piante negli alberi e fa capire da quanti secoli questa abazia si trova in queste condizioni come promesso vi spiego come mai i monaci a un certo punto ebbero la necessità di mettere le ali attorno a questo luogo come facile che sia le leggende si rincorrono e secondo una di queste i monaci benedettini avevano avuto dei rapporti piuttosto ravvicinati con le moglie degli allevatori nel periodo in cui si allontanarono per la transumanza al loro ritorno gli allevatori avevano trovato le donne gravide e allora corsero sulla abazia per prendersela con i monaci questi però riuscirono a volare in un primo momento a sfuggire loro ma poi vennero raggiunti e i contadini e gli allevatori tagliarono loro le teste ed è per questo che questa zona si chiama tagliata. Ora bisogna percorrere un impervio sentiero pieno di muschi per accedere a quella che nel medioevo era una importante biblioteca che in base alla ricostruzione delle mappe doveva essere esattamente queste si vedono ancora gli archi archi che probabilmente ospitavano scaffali carichi di tomi scritti a mano ma la prossima scoperta mi porta a livelli molto più bassi praticamente intestinali. Proviamo ad entrare dentro questo cunicolo chissà dove porta. Ho scoperto che queste erano le latrine per cui con tutta probabilità il cunicolo che ho attraversato era una sorta di scarico fognario. Ma torniamo a qualcosa di più elevato di decisamente elevato. Questo era il portale d'accesso principale all'abazia e la dimensione di questa parete fa capire il bisogno di difesa che avevano i monaci benedettini. Ma nulla li ha potuti difendere dalla caducità umana e i resti di due confratelli rimarranno qui a difendere la loro dimora per sempre. Adesso mi allontano di poco dall'abazia per raggiungere i primi insediamenti di questa zona. L'abazia è infatti sorta su un villaggio pre cristiano in cui si venerava il dio Zeus. Dalla chiave di volta dell'arco di questa abitazione che ancora conservano in tonaco con una tinteggiatura rossa il punto d'osservazione ideale per vedere tutta la piana di mattinata. Scendo fino al mare ma non contento risalgo su un'altra vetta dove mi attendono scoperte ancora più antiche e funeree. Da Monte Sacro a Monte Saraceno una vetta nettamente più bassa a 260 metri dalla quale però già dopo i primi tornanti si vede il candore dell'antica matinum adagiata sulle colline di fronte la piana di mattinata con i suoi filari di olivi e di fronte il litorale la baia di mattinata con i bagnanti che stanno facendo gli ultimi bagni del tardo pomeriggio nonostante da dietro le montagne stiano sopraggiungendo quello che sembra essere un minaccioso temporale. La natura qui è meravigliosa ma come per leopardi rischia di diventare maligna. Il fatto che da questo punto in poi nel sentiero ci sia una fune mi fa intuire che d'ora in poi sarà piuttosto scosceso. Man mano che si sale il sentiero si fa meno segnato e a un certo punto viene sostituito da una fune. Mi raccomando scarpe buone in valigia. Andare su si suda, bruciano i muscoli ma si va su. Il brutto è poi andare giù e tenere i freni e non finire in mare. Mamma che spettacolo. Finalmente in cima a monte Saraceno il temporale mi ha schivato infatti ha girato dietro le montagne fino a Vieste e ha scoperto la cima di Monte Sacro quella dove ero questa mattina e che si vede molto bene qui da monte Saraceno. Perdonatemi se indugio ancora qualche istante su questa inquadratura ma un fondale così con una luce così non penso mi ricapiterà a breve. Il sole sta scendendo su monte Saraceno ma c'è ancora un'ultima scoperta che mi rimane che è quella della necropoli dei Dauni, una popolazione di origine euroasiatica che viveva da queste parti attorno al 1000 avanti Cristo e qua in cima a monte Saraceno si trova la necropoli con tante piccole tombe. Adesso vado a scoprire perché ce ne sono circa 500 e vivevano qua attorno si dedicavano alla pesca, all'agricoltura. Eccole le tombe dei Dauni questi piccoli pozzi. Ce ne sono tantissimi scavati nella roccia calcarea. Bisogna stare attenti veramente a non inciampare dentro uno di questi. E attraverso tutti questi fuori scavati nel calcare i Dauni si regalarono il privilegio di riposare per l'eternità con la faccia sul mare. Qua incastrata sul fianco della collina c'è questa casetta che direi ad occhio croce che non risale ai tempi dei Dauni con il suo comignolo, il forno dove probabilmente veniva fatto il pane e poi quando si svegliavano la mattina vedevano questo popò di panorama. Una panchina sedia improvvisata. La notte si avvicina e devo affrettarmi a ridiscendere se voglio vedere dove metto i piedi. E dopo tutto questo trekking... Sono meritato un panzerotto, una crocchetta di granchio e dei mini arancini eh. Godo, come godrò nella prossima tappa tra grotte e spiagge quasi impossibili da raggiungere. Grazie! Grazie!